beh la mattina mi alzo sempre presto e che ci mangiamo stamattina fichi e pane un'ottima alimentazione sana e nutriente i pollacciani sono del mio orto da freschi freschi pollacciani un ottimo abbinamento io mangio i figli con tutta la buccia aiuto la digestione c'è chi dà pastiglio la buccia dipende dallo stomaco allora così ingrandisco un po guardava si vede proprio picchi freschi e il mio orto si trova si trova al comunico dei marzi a bruzzo provincia dell'acqua a 672 metri sul livello del mare immaginate un po che sapore buona giornata a tutti